se potresti vincere o perdere? io mi avrò di vincere e lui perchè si sapesse il culo se... signor, anche io ce lo metto non vuole perdere, se non gli sapesse il culo era già lì in attesa e questo con la faccia mi ha raccontato male la storia che lui è arrivato a Viterbo ma viene qua ma viene qua c'è un sindaco di Calcatto c'è qualcosa che non mi torna ma siete uno contro l'altro siete così affecciosi se tu li vinci prendi tu come pro sindaco se vinci... diciamo che da lei possiamo imparare qualcosa però in questo caso da lei quindi